Piccolo disclaimer, io amo Minecraft come videogioco, questo video non vuole andare ad uccidere, diciamo, la credibilità di Minecraft come videogioco, bensì vuole andare a ricalcare su, diciamo, un tono giocherellone e scherzoso ciò che è stato aggiunto su questa nuova snapshot di Minecraft. Buona visione! Buona visione! Ho scoperto una cosa, su Minecraft sono arrivati i liquidi, ma, cioè, renditi conto, ora puoi far andare l'acqua sulle scale, non sono più vuote le scale se ci metti l'acqua accanto, ci va l'acqua, conta che, cioè, ah, puoi mettere ovunque l'acqua, puoi mettere sulle scale, sulle scalapioli, sui blocchi che non sono blocchi, sulle ceste, su una casa, puoi metterlo ovunque, e io questa cosa la sto registrando prima di dover registrare la cosa su Minecraft, quindi molto probabilmente dire che puoi metterla, puoi metterla sopra la casa non mi gioverà molto nella registrazione di Minecraft, però, non fa niente. Cos'altro è stato aggiunto? Vediamo... Le alghe! Wow! È una cosa innovativissima in un gioco! Pensate che nel gioco ci sono anche i pesci tropicali, e poi potrete trovare anche dei pesci tropicali, ma anche dei pesci tropicali, cioè, pesci tropicali, bellissimi! Oppure, non so, se girerete potrete trovare dei tesori, delle ceste con dei tesori, non credo di trovarli, ma delle ceste con dei tesori! Ci possono essere ferro, può esserci oro, può esserci una leather tunic, può esserci un pezzo di dirt, e può esserci anche un pesce tropicale! No, vabbè, a parte gli scherzi, come possiamo notare da questo video in sovrimpressione, o che comunque mi... Diciamo che possiamo trovare un'acqua fisicamente quasi corretta... Fermi, fermi, fermo, 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 tozito! Allora, sapete, io, cioè, Minecraft ha più fisica, cioè, io, 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 io so, per piano... Cioè, secondo me, nella prossima versione di Minecraft, ammetteranno che le ragnatele potranno venire rotte anche con le mani in modo semplice! Ma forse, spero troppo... Sì, mi sa di sì... Mi sa di sì... Che può andare ovunque, può passare qualunque cosa e può andare... Ah no, le fence ancora le abblaccano... Vabbè, comunque, per ritornare a un mio vecchio video, volevo, diciamo, tornare un po' alla base e farvi notare una cosa... Ora, se... Non so se avete notato, ma in questa parte del video sta un po' fuori sync il video... Vedete che la mia voce arriva un po' dopo e o un po' prima... Sapete perché? Perché il vostro computer sta laggando, il tuo computer sta laggando... Sì, dico a te, proprio tu, tu lì seduto o sdraiato o... Capito? Tu, proprio tu, ti sta laggando il computer... Sai perché? Ora ti farò capire come non farlo più laggare... Non ti lagherà mai più questo video, sai perché? Perché... Riesci troppi...